Beh, ci sono tanti modi per raccontare una storia, no? Si può mettere in musica, oppure si può scrivere un libro, oppure si può fare un film. Certo, per fare un film c'è bisogno di un po' di cose non del tutto indifferenti. E se ci fosse ad esempio un operatore in questo momento, sarebbe perfetto. Grazie, Luca. Eh beh, sì, eh, si intende. Per mia nonna il filmato amatoriale del matrimonio di zia Peppina è perfetto. Ma voi lo guardereste un film così? Ne dubito. Eh, prima di tutto c'è bisogno della luce. Ah beh, certo, due riflettori e due lampadine riesco a trovarli anch'io. Però per illuminare un set c'è bisogno di un direttore della fotografia. Eh, da. Sì, era meglio. Perfetto, grazie. I direttori della fotografia sono incontentabili. Ho sentito. E anche un po' per malosi. Beh, certo, perché è il punto. Grazie, Roby. Dicevo che in un film la storia è importante, certo. Però c'è anche tutto il resto. È un po' come il trucco. Grazie, Ile. C'è, ma non si vede. Eh, certo, sarebbe bello girare a New York. Magari a Natale. Magari con la neve. Grazie, bravo, sei un grande. Il nostro scenografo è fantastico. Beh, certo, con un po' d'aiuto potrebbe fare ancora di più. E poi che cosa manca? Ah, sì, i registi, no? Per il momento abbiamo loro. Ma con il vostro aiuto potremmo avere... Ah, è sempre loro. Vabbè, ce li teniamo. Insomma, avete capito, fare un film senza tutte queste cose un po' come, che ne so, un giornalista che si inventa uno scoop perché non ha notizie e magari insieme al suo amico cameraman e poi incontra, che ne so, un transessuale e poi un pazzo mitomane e poi c'è una collega, un piccoglione che continua a mettergli bastoni tra le ruote. Aspetta un attimo. Ma potremmo farci un film su questa cosa? Io potrei essere il protagonista. Ah, l'abbiamo già scritto. Lo giriamo. Vabbè, però col vostro aiuto possiamo fare ancora meglio, ne sono sicuro. Uh, dimenticavo, la musica! La colonna sonora è fondamentale per un film, sì. Grazie, eh, le faremo sapere. Col vostro aiuto su MusicRacer possiamo fare molto di più.